A stupere di stabilizzare 19.000-20.000 forestali è l'errore più grosso che questa regione possa fare perché continua a dare false speranze distogliendo fondi da impieghi più utili. L'avvio dei cantieri scuola sta per partire. È una vergogna e io mi opporrò con tutte le mie forze perché non è corretto che si impiegano i denari in questa maniera. Bisogna creare posti di lavoro, non dare sussidi. I forestali hanno il doppio lavoro, lavorano in nero senza pagare le tasse e questo lo dobbiamo dire, dobbiamo avere la forza e il coraggio di dirlo.